salve amici bentornati ci siamo allora ieri bella vincita carrellata di vincite il nostro sistema sta iniziando a funzionare secondo una distribuzione di previsioni a poche persone ieri beccato il 6 su bari in quinta posizione 6 69 ambo previsione data 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 così a un petto di persone punto abbiamo allora di gruppi whatsapp nuovi creati ecco qua vince 1175 euro abbiamo creato dei mini gruppi signori gli abbonamenti ecco qua 6 69 bari napoli ambo secco ok questo per farvi capire che si può vincere giocando non in massa ma giocando previsioni mirata eccola qui questa è la previsione data a uno dei gruppi ne abbiamo 6 7 stanno crescendo sono mini abbonamenti o donazioni che l'utente può fare per avere in cambio previsioni sempre aggiornate ogni situazione quindi una previsione mirata dove c'è una ruota unica posizione e anche a volte un'ambata unica e poi c'è la giocata di riserva eccola qui la famosa giocata di ieri in uno dei gruppi che ha dato 6 69 e 6 in quinta bari poi abbiamo preso questa previsione qui c'era il 69 bari prima e terza è uscito il 69 bari ok invece del 86 è uscito il 87 quindi qui 69 e 86 ambetto secco bella giocata questa qui ha sempre colpo 2 eccola qua 69 e 6 nell'altra previsione 69 86 è uscito il 87 ok poi abbiamo quindi noi come vedete facciamo questo tipo di colori come sfondo poi qui abbiamo questa previsione ancora valida è uscito il 35 e il 79 quindi un ambetto qui in basso non è uscito il 80 ma 35 79 Cagliari questa qui era 35 80 che aspettiamo ecco qui 35 79 allora come state per vedere dalla mia diciamo adesso del cellulare eccole qui noi prepariamo previsioni mirata eccole qui come vedete sono ci sono vari vari del cellulare vari colori abbiamo 7 8 previsioni non di più ma io le voglio dare a pre a persone quindi che sono appunto i nostri ebonati a 5 10 euro mesi e andiamo noi quindi vado a studiare queste previsioni ogni giorno davvero impiego molto tempo però sono mirate signori ok quindi se qualche gruppo non ha vinto è normale noi comunichiamo cosa fare vantaggio qual è che diamo anche dei metodi gratuiti ai nostri ebonati quindi è un vantaggio stare con il quadro pacifico che vi ammatti stavolta lo chiedo io veramente chiedete come fare perché a 5 euro mese è solo una piccola donazione e avrete tecniche e previsioni vincenti quindi vi aspetto chiedete come vi fate entrare eccola qui a parte esso non guardate chi gioca così forte perché sono giocatori che hanno già vinto che puntano 20 30 40 50 euro quindi noi consigliamo sempre di giocare con 4 5 7 euro si copre tutta la nostra giocata diciamo ecco qua c'è chi gioca di più perché già vinto quindi non ci fate caso mi raccomando il gioco è sempre prudente perché poi se non esce si perde si perde molto eccole qui ok quindi mini gruppo whatsapp vi faccio vedere solo qualche vincita abbiamo diverse stanno arrivando da quelle che abbiamo raccolte per farvi capire che aspettate il vostro turno la vostra previsione funziona sempre ecco qui sei in quinta posizione a colpo nel frattempo signori io vi devo far vedere la tecnica del raddoppio del terzo estratto che ieri ha pagato stateci attenti perché guardate qui bari cagliari nel 26 aprile eccolo qua il 26 aprile abbiamo una avevamo una condizione dove c'era bari cagliari terzi estratti vuolvere la tecnica 44 46 aspettate voglio imprendire un po' l'immagine 44 46 in terza posizione che fa 90 come somma questo l'ho già fatto vedere 90 raddoppiato è 180 quindi sempre 90 ok però qui prendiamo anche le figure prendiamo l'8 e la figura 1 quindi l'8 e 1 è 18 che poi 90 è figura 9 81 col complemento 90 quindi 90 la somma la figura del 90 è 9 quindi andiamo a togliere come facciamo il raddoppio uno di voi come fai fai fa sempre 18 ok beh magia della magia colpo 4 bari vedete 18 magicamente è 90 ok ricordatevi che questo 90 che veniva dalla somma dei terzi estratti vi ho detto di aggiungere 10 che il numero fisso il numero dopo di quest'anno che il numero dei cicli lunari 90 più 10 fa 100 quindi 100 meno 90 è 10 esce anche 10 ok ecco qua fa ricagliari ricagliari andiamo a vedere ieri che c'era guardate semplicemente perché questo metodo lo potete fare sempre sia qui guardate la penultima estrazione quindi tecnica del terzo strato raddoppio è più 10 con loro 55 87 vedete la somma di 55 più 37 fa 42 ok quindi 5 più 7 12 porto 1 8 9 5 14 52 scusate facendo 42 quindi 52 ok 52 52 figura 7 ok qui abbiamo poi la figura 1 e la figura 6 quindi 16 potrebbe essere buono però abbiamo questo quindi 52 aumentato di 10 fa 62 beh primo colpo guardate guarda i cagliari non esce ancora il 16 no ma esce il 52 si gira anche il 62 si gira 25 26 quindi 52 diventa 25 più 10 62 esce al contrario 62 quindi 26 25 poi se abbiniamo il 10 del più 10 ok quindi più 10 al 52 è il 62 eccolo qua il più 10 diventa 26 beh signori fortissimo no? perfetto e quindi adesso qui ieri cosa avevamo? guardate ieri signori ultima estrazione stessa tecnica 2 maggio 25 più 26 fa 51 51 più 10 fa 61 quindi vedete questo 16 e 61 adesso uscirà però però intanto è uscito 25 più 25 più 26 che fa 51 51 51 andiamo a raddoppiare fa 102 quindi 12 quindi esce 12 esce 51 15 21 12 12 1090 fa anche 78 bam quindi esce 87 21 15 tutto al contrario signori quindi fate voi il calcolo adesso qui raddoppiate e avete un bel numero ok? bene signori considerate anche quella figura qui c'è 7 e qui c'è 8 vedete? quindi figura del 25 è 7 figura del 26 è 8 e infatti 87 c'era anche così quindi 15 raddoppiato è 102 12 21 78 signori questa è magia che poi 15 fa anche 6 figura 6 vedete? quindi la somma di 25 più 26 fa 51 51 più 1 6 quindi quadernina 6 15 21 87 questa non è magia è matematica allora signori vi aspetto con tante vincite con tante aspettate che voglio salutarvi perché sono guardate un video direttamente dalla mia auto per far vedere quando ci tengo a fare vincere iscrivetevi ciao gruppo whatsapp mini gruppi con donazione mensile avrete tanta roba ciao a tutti ci vediamo